Bella, 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 siamo in streaming, regà, benvenuti. Benvenuti in questa nuova stream su Radio 102, in onde medie, ma anche in onde alte. Che palle, io ho perso tutto ieri qua, cazzata che mi ho fatto. Ma davvero hai perso tutto? Ma sì, ma dai, ma andiamo a fa' un giro. Buttacci tua. No, sì, sono morto, cioè, non sono riuscito a bere. Guarda come sei morto! Eh, ti ho detto che mori a pecora qua. Oddio. Ah, resettami, che se no mi vado un culo alla luna. Sto a tagliare. Che è, oh? Che è, oh? Come cazzo ridono questi? Che è, grazie al clown? Vi è qua, stronzo. Ci restano due, occhio, eh. Ci ho voglia di ammazzare qualcuno, dai. Ah, non vedi, la trappola! È morto una trappola! Oh, vedi che serve? Ah, non vedi, che figata! Ah, vai. Ah, che bello. No, regà, la trappola è stata da paura. Cioè, mi sono quasi arrapato. Oh, non vedi che carino, sta imparato là. Guardate che bello. Ah, stronzo. No, regà, sta trappola è epica. Ne devo fare di più. Albero! Tacci tua. Oddio. Tacci tua. Ah, la caverna. Dobbiamo andare in caverna poi, dopo. Cos'è questa cosa sott'acqua? Non lo voglio sapere o voglio correre? Voglio correre. Vabbè, ma sti cavoli non ci serve. Andiamo a cercare sta pistola. A me non mi serve, però vabbè. Dozzate la pistola. E qua, vieni in spiaggia. Cioè, condiamo tutta l'isola e vediamo di trovare qualche altra barca. Cioè, sarà qualche altra barca. Prendere gli uccelli. No, non li prendo gli uccelli. Ma la mamma di Xenic sì. Tanto Xenic non c'è. C'è so. Ah, ok. Sono tornata. Allora, andiamo avanti qua. Vediamo cosa c'è. Io direi di risalire questa bellissima cascata. Non potremmo mai. Prendiamo i medicini, ti è. Guarda, è strano che hanno messo un albero qua che non ha nessun significato. Provamo, rompelo. Sì. Perché pensi che ci riuscimo? Provamoci. Si può rompere se non è. Ma no che non si può rompere. Che cazzo. Fa vedere. Comunque, l'accampamento qua era un'unità molto figa. No, vabbè. Non c'è sta niente intorno. Non c'è stanno alberi. Non c'è niente. Come fai? Ma appunto. Ma non c'era sé. Cioè. Ma lì che c'è sta, in isola. È quello che sto cercando di capire. Però vedi, qua vedi tutto in pratica. Nella grotta c'è la mamma di Xenic. Sì. Mi piace sta in grotta a lei. O in groppa. Allora. Lì comunque c'è un'isola. Quindi io c'andrei. Mi ispira. Al muoto non ci arriveremo mai. C'è il cano prima. Ma andate a spiegare una freccia. Attenzione. Non azione. Credibile. Muni sushi. No, no. Sta scherzando. Non è vero, dai. Cosa ha fatto? Ha donato 50 euro. Ma sta scherzando? Sta scherzando? Non è vero. No, dai. Dimmi che non scherzo. Ma che cazzo? Oddio mio. Ma ora si rivi. Grazie, veramente. Grazie. Cioè, sicuramente c'è un modo per riviassi. Lo so, è da pazzi. Ma qualche foglio ogni tanto non fa male. Però da, per favore, potresti fare Sabrina anche solo per due minuti. Va bene, dai. Te la faccio. Non va bene, ripeto i sordi. Non gliela fa fa. Te prego. Però basta adesso perché sennò finisco lo stipendio e mi servono per tornare a Roma. Oddio, scusa. Cioè, mi sento tipo troppo... Non me li merito 50 euro. Solo dalla mamma di Mateus me li merito. Allora, io direi adesso... Mi piace questo coniglio. Dai, sì, te prego. Mori, strozzo, abbiotera, viziotta, pezzo di besta. Preso. Hai preso? Sabrina non mente mai. Sabrina caccia. Caccia tanto. A volte caccia anche i cazzi. Però l'importante è che caccia. E prende i conigli e li ammazza. Capito? Allora, combine, sta buono, va. Allora, bello sto commento. Dari, 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 ti prego, sei il mio idolo. Mi puoi salutare, Xenic. Ah, davvero? Sì. Ciao, Mateus. Senti, che vento. Attenzione, un'altra donazione. 7 euro da Kaori 97. Grazie tantissimo, veramente. Grazie, lega. Mi è stata un po' emozionata queste donazioni. Grazie tanto. Allora, vediamo cosa c'è scritto. Dai, che forse la SLK non è più un sogno. Boh, mi basta che mi salutate e mi chiamo Alessia. Sei di migliori. Xenic, adoro i tuoi capelli e Dario il tuo pizzetto. È orribile. Ah, è Dario il tuo pizzetto. Pensate adorare il tuo pizzetto, eh. Invece no, fa cagare. È orribile e vi amo. Grazie, comunque. Oh, cari cosa, si stanno aggonfiando la deluro. Ma davvero? Sì. È perché sono due tributi diversi. Erci. Come cazzo hai fatto ad entrare? Mo mo, odici. Mo mo, odici. Sono troppi, ma te... Mo mo, odici. Perché la trappola non scatta? Oh, io sto a morire. Porco cane. Andiamo a dormire. Oh. Eh. Wow. Ho trovato un posto dove posso calarmi. Eh, serve una corda però. No, ci sta già la corda. Cioè, nel senso... Mi sta dicendo di calarmi. Aspetta, mi aspetti un attimo. Vengo pure io. L.U. Sliter. Ah, forse questa è la caverna. Sì. Che bello, regà. L'abbiamo trovata. L'occhio non morisce però, eh. No, tranquillo. Io sono mortale. Dio, a me mi fa un po' paura sta caverna, eh. Comunque. Cosa cazzo è il suo rumore? Non lo so. Che cazzo fa quel coso? No, no. Fè, fè, fè. Sali. No. Ma sono bambini. Mo che si fa divertente la cosa. Ammazzali. Ma io non posso ammazzare i bambini. Oh, oh. Oh, sì, oh. Sì, li posso ammazzare i bambini. Sì, direi proprio che sì. Ha schifo, sì. Potresti rianimarmi? Ma che è sto coso? No. Che cos'è questa cosa? Che cosa? Guarda, dietro di te. È dietro di me. Oh. Eh, ah, sì. La sto guardando adesso. Ma che cazzo? Ma me rianimi invece che guardava. Sto rianimato. Ah, davvero. Occhio. Sto a fermorire un'altra volta. Perché si ha coso? Oh, guarda. Oh, non hai capito che io, porco due, ti devasto la vita. Abbiamo fatto una cazzata. Sì. E niente. Xenic se ne deve andare, quindi dobbiamo chiudere qui la live. Eh, già. Perciò... Eh, ciao. Regà, se ribeccamo la prossima live, ricominciaremo da quel pezzo. Quindi tranquilli, non dovremmo ricominciare tutto da capo. Spero che questa vi sia piaciuta. E niente, se ribeccamo la prossima live, dai. Ciao a tutti. Ti vorrei salutare comunque. Eh, stava bene, dammi tempo. Ciao.